Ehi, cosa stai facendo? Prima di che inizi il video ti ricordo di mettere un bel like, se no non lo faccio iniziare Ok, bravo, buona visione Yo, ragazzi, come va? Eccoci tornati dopo 40 anni sul nuovo video, finalmente Oggi, come avrete potuto leggere dal titolo e come state vedendo a destra, siamo su Hell Games Un server faction, ho deciso di iniziare qui una serie, anche se avrei voluto fare questo video in realtà con Andre Power Insomma, è un cazzo di minchia e quindi non è online in questo momento su Skype Mangiamo queste perché siamo ricchi Ok, direi di partire facendovi vedere il server, ovviamente Ma che cacchio scrivo? Ok, andiamo per primo al War Penchant Che è qui, che in pratica è alla lobby, però io sono stupido, non ci vengo mai Ah, c'è anche il Warp Free, dove potete prendere le mele dello Shinigami Perché a me piace il Death Note Le spade di cacca e l'arco di cacca E il Warp Free è collegato direttamente con lo shop, come potete vedere Poi c'è il Warp Give, che non è niente di speciale, è un Warp dove fanno i Giveaway Come, sì, Giveaway, i Giveaway, attenzione Dove fanno i Give come oggi, tipo, oggi e domenica hanno fatto un Give alle 4 Che è stato qualcosa di... di qualcosa di forte Poi, a quanto pare, hanno aggiunto il Warp Pet, che prima non ne ho visto Quando ho aggiunto adesso, a quanto pare Beh, dai, vi è dato abbastanza bene, cioè, mi piace lo stile Anche le ste cose mi piacciono abbastanza Leggero lag Il Chicken, che serve il pollo, a 14.000 Lo zombie è 15.000 Oh, Bucaretti, dai Potrei comprarmi qualcosa, giusto? Ma vedo che c'ho zero money, non posso comprarmi niente Oh, 5.000 Ho un'attenzione Però il Pig, però io vorrei il Pig Vabbè, aspettami, farmi un po', farmi un po' di roba E poi la vendo e vengo a comprarmi un... Un pet Poi c'è il Warp PvP Che anche questo non è niente di speciale Semplicemente è un posto dove si va a fare PvP Dove io non andrò mai nella vita Perché laggo E quindi, cioè, non vado perché laggo E poi basta, i Warp sono finiti Sì, è molto organizzata È soprattutto molto, molto ordinata Come potete vedere Cioè, io non ho mai visto robe così Intanto fammi mettere l'armatura plot 4 Che ho avvinto oggi nel give che hanno fatto Cioè Cioè Avete capito? Give piccolo Piccolo give giusto così O piccolo dove non si prende niente, ovviamente Ok, direi un attimo di allargare qui Perché è veramente un buco Però era un buco E c'ho del... Allora Del carbone Allora, signorino Dove... Dove è messo il signorino? Mi scusi, signorino Dov'è il carbone? Non lo vedo Ah, intanto fanno pensare uno di questi C'ho l'oro C'ho Ok, raga Voglio un attimo vedere Se hanno aggiunto Questa cosa qui Cioè, di mettere il cartello E la cesta diventa No, ok Non funziona Signor admin Metta sta cosa Perché nel faction Può servire Oh, ma tra l'altro Hanno aggiunto anche le aste Allora Auc Info dovrebbe essere Giusto? Messo Ah, asta annullata Cioè, tra l'altro Con che... Con che se... Con che geroglifici Me lo stai dicendo Sì, te lo compro io Adesso... Sì Sì, certo Con... Che? What the fuck? The fuck? What the fuck? What? 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 Mike? Mike? Che... Ma... Ma... Ma che ca... Cioè La comprerai anche Cioè, 200.000 per Indistruttibilità 8 Protection... Protection 10 Cioè... Porca puttana Non me ne ero accorto Comunque Mentre scavo Vi spiego In pratica Perché non ho portato video Partiamo col fatto Che io In questi giorni Potrei benissimo Registrare video Ma... Mi è passata quasi Del tutto la voglia Di registrare Non chiedetemi perché Io vado in pratica A momenti Momenti C'ho voglia di registrare Che spacchere tutto Puri di non... Di riuscire a registrare Appunto E ci sono momenti In cui veramente Già se apro Sony Vegas È un miracolo E in questo momento Mi sento più o meno Cioè Nel mezzo Perché c'ho voglia Di registrare Questo video Però non è che abbia Molta voglia Poi di aprire Editarlo Però Cercherò di fare Qualcosa di decente Nell'editing Però Non vi assicuro niente Se vedete che la qualità Calerà un pochettino È per questo fatto Più che altro Perché non mi sento invogliato A registrare altri video Bello Ho finito i piccone GG Ehm Un secondo Ok Sto spostando il microfono Quindi sono un genio Adesso mi sentirete Tipo più vicino Ehi Lasciate like Ehi Che ve ne va Facciamoci Un piccone Sì lo sto facendo In ferro Perché non c'ho money E dovrei costruire Le farm Per fare i money Però In questo momento Non ne cambia tantissima voglia Ok Il gioco 10 Può stare Però Direi di allargarlo Poi anche un pochettino Tipo lo facciamo Ancora di Due Due di qua Anche E anche Altri due Di qua Però veramente Mi devo andare a comprare Del carbone Allora Warp Ok Warp Shop Allora Mi tocca Sli dire Tra l'altro Io ogni tanto Leggo la chat Però Più che altro Non mi interessa Ah tra l'altro Dovrei ritirare i kit Io C'ho tre kit Da ritirare C'ho il kit New Che hanno tutti Quando entrano Il kit Trent E il kit Brizzis O Brezzis Non Non so Come si pronunci In reale Signorina Comunque ragazzi Scusatemi se lagga Però non riesco a capire Cioè Non capisco manco io Perché stia laggando così tanto Ecco E anche questo è un po' Che mi fa passare la voglia di fare video Cioè lag Tu magari sei invogliato a fare video Ti metti a giocare Poi vedi che ti Lagga Ok Mi stava laggando pure di connessi Attenzione Ok Vendiamo un attimo tutte queste ceste Qui ci sta qualcosa No Possiamo romperla Qui niente Devo togliere un attimo tutte Perché sennò qui Non ho spazio per muovermi Però questa roba Poi la devo spostare da qualche altra parte Magari non qui Perché sono leggermente pieno E devo posare anche questa roba Ma chissà se Allo spawn si possono vendere La cobblestone Cotta si Però Non ci fai un cazzo di soldi Quindi non è che abbia molto senso Non è che abbia molto senso anche questa Se ne vendi 64 di queste Ti fai 50 Ma se te ne vendi 64 di queste Ti fai Allora 64 30 Per 4 120 Non è che abbia tantissimo senso Perché Con 4 di stone Ti fai 4 di stone brick Quindi con uno stack di stone Ti fai uno stack di stone brick Quindi Admin Risolovete sta cosa Perché non ha senso Ok Illuminiamo un attimino la zona Perfetto Poi la mettiamo Tra l'altro qui c'è del ferro Che prendo Oh ciao ferro Ho dimenticato di Tenermi uno stack di cobblestone Per l'eventualità Prendiamo uno stack Veloce veloce Perfetto Spostiamocelo qui Mangiamo prima Si c'ho i panini Ah è vero Non devo sprecare così le carote Non le devo sprecare così Perché poi le devo vendere Quindi Oso le carote Mi prendo il pane Ecco perfettissimo Mangio il pane Ok Diciamo che il lavoro E' quasi finito Poi ci resterà Da decorare E a me E ad Andre Powers Magari lo faremo Off camera Magari faremo Vedere qualcosa Registrando Però Direi che Abbiamo finito Ok ragazzi Direi che per questa volta Direi che è tutto Se volete Che non carichi Un prossimo video Magari tra 40 anni Raggiungiamo i 20 like O i 15 perché tanto so So che sto video Lo vedranno pochissime persone Però Mi invito ovviamente Di entrare qui Nel server di Lgames L'IP ovviamente Lo troverete in descrizione Così possiamo fare Una bella partitozza Insieme E niente Vi do un abbraccio Vi voglio bene E Ciao Ciao